Ci siamo stupiti più di tanto. L'entità delle pene in effetti ci ha invece stupiti. Il problema grosso che resterà, ma resta aperto anche dopo questa sentenza, è il discorso del concorso di persone del reato. E su questo credo che in appello avremo spazio per far valere le nostre ragioni. Si tratta della vicenda notava, questa entità delle pene non ha alcun senso.